Mamma mia che rosso, che rosso, ma che belva, ma che belva, non me la ricordavo così, non me la ricordavo così quando l'ho provata, mamma mia, appena ritirata, appena ritirata a Brescia, adesso sto andando in direzione della Val Sabbia per poi intercettare la Val di Nedro, passare dal Lago di Nedro e fare un bel po' di curve con questa bella giornata soleggiata, insieme a me potete vedere Alessio che è stato così, aspetta che adesso devo scalare, devo prendere confidenza io qua, mamma mia che curvazza, ero alto di marcia, benvenuto a trovarmi a Brescia il giorno del ritiro della moto insieme ad Alberto che voi forse avete visto in un altro video e adesso lui si è offerto di fare due curve insieme a me e io ne approfitto per prendere confidenza nelle curve, mamma mia che fenomenale, fenomenale, avevo il timore che dopo mesi, ciao ciao, che dopo mesi senza moto salire poi su una nuova non sarei entrato subito in sintonia, ma invece eccoci qua senza problemi, stiamo già piegando che è una meraviglia, bella veramente bella, mamma mia, mamma mia, non so che senso avranno i miei discorsi, ma me la voglio proprio godere, ecco devo ancora prendere un po' di confidenza con la posizione delle pedane, perché sono indietro e ben all'interno, con la Rebel invece ce l'aveva all'esterno e avanzate, intanto saliamo qua sulla Val Sabbia, arriviamo in seconda, onda, devo prendere confidenza con le curve, mamma mia come piega da sola, mamma mia, mamma mia, bella veramente, bella, 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 mi devo abituare con la posizione delle neve, perché sto notando che io vado a posizionare il piede, la punta del piede sul paramotore, ma poi la vedremo prossimamente, la vedremo meglio, adesso questo qua è un giro tranquillo per prendere confidenza con la moto, che scoppiettio, mamma mia, mamma mia, che rombetto, che rombetto, guarda come piega, mamma mia come piega, come piega da sola, avevo dubbi, poi che rosso, ma che bel grigio, ecco devo togliere questi adesivi, intanto abbiamo montato questo qua, perché pensavo mi servisse come navigatore, ma il buon Alessio si è offerto di accompagnarmi a metà strada, eh c'è un po' di traffico, c'è un po' di traffico, bisogna togliere solo le scatole, siamo tolto un po' di macchine dalle scatole, adesso non chiedetemi dove io sia, perché non conosco assolutamente la strada, ma la cosa si sta facendo interessante per tutte queste belle curve, allora stando alle recensioni dei più professionali, dicono che la street scrambler, oltre a essere molto agile e maneggevole, per sfruttarla al medio in curva, bisogna farla scivolare, rendendo la curva quindi molto rotonda, quindi adesso proviamo, vediamo se è vero, perché questo dovrebbe essere, a quanto pare, sembra sia possibile, grazie al cerchio 17 che c'è davanti, bella sta curva qua, in terza piena, bella, mamma mio, che pieghe, che pieghe belle rotonde, che pieghe, ah che bello questo pezzettino, ma che bello, ma che bello, vai Alessio, vai Alessio, vai Alessio, vai Alessio, vai Alessio, sempre in sicurezza, bravo Alessio, bravo, ciao, 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 eh qua c'è di nuovo traffico, c'è di nuovo traffico, direzione Lago d'Idro, ah di nuovo traffico, che scatole, che scatole, dai Alessio, togliamoci dalle scatole questo traffico, magari scagliamo, oh come sei vicino Alessio, direi che la terza è la marcia migliore, così vedo anche l'inquadratura se c'è qualcosa da modificare, perché era impostato tutto con l'altezza della rebel, facciamo fuori questo traffico, Alessio, dai Alessio, dai Alessio, dai Alessio, camping, upilu, 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 evvivo upilu, 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 ma il mio rosso rispetto a quello di Alessio sembra più chiaro, e dopo tanto traffico, eccoci giunti qua alle pendici della Val di Letro, siamo a Storo, davanti a noi c'è un gruppo di tre tedeschi, a quanto pare adesso ho deciso di fare la Val di Letro, è come un grande, si sta facendo, si è fatta la strada da Brescia fino in Trentino, quindi un'ora e mezza quasi che siamo in viaggio perché da dove abito io al concessionario ci sono due belle ore tonde tonde, quindi grande, veramente grande, adesso stiamo entrando dentro Storo, ma dopo aver superato il pezzo di Storo, se non troviamo macchine c'è un bel pezzo anche di curve, adesso vediamo cosa le riusciamo a fare, sono passato avanti io, proviamo a forzare un po', oh che accelerazione, mamma mia, senti che rombo, come vola, come vola, come vola, come vola, come vola, guarda che bello sto pezzo, stiamo andando in Val di Letro, che ruggiti ragazzi, che ruggiti che lancia, wow, 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 mamma mia, mamma mia, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, grande Alessio, dai, sorpassiamo questa adesso, grande Alessio, sorpassiamo questa, vai Alessio, vai Alessio, guarda qua, questa Audi cosa c'è rovinato, ma c'è un rettilineo adesso Alessio, c'è un rettilineo, vai, vai Alessio, vai Alessio, vai Alessio, Grazie a tutti. Grazie a tutti.